Leonardo Ricci è stato un architetto italiano molto amato, di origini franco-svizzere ma nato l'8 giugno del 1918 a Roma, anche se la sua città d'adozione rimarrà per sempre Firenze, capoluogo toscano dove conseguirà la maturità classica nel 1936 iscrivendosi successivamente alla facoltà di architettura. Appena laureato inizierà a lavorare come assistente collaboratore del suo relatore, anche se vogliamo un padre in qualche maniera, che non era poi dopo tutto uno qualunque, ma bensì Giovanni Michelucci. Assieme a lui, presso lo studio Michelucci, anche Leonardo Savioli, Edoardo Detti e Giuseppe Giorgio Gori, i promettenti giovani della scuola fiorentina. La guerra tuttavia interrompe ogni progetto, portando Leonardo al fronte e solo più tardi gli darà la possibilità di fondare uno studio assieme a Savioli e Gori, con i quali realizzerà fra il 48 e il 51 il famoso mercato dei fiori di pescia, ma soprattutto parteciperà concorsi per la ricostruzione, appoggiando le idee micheluciane che si contrapponevano al dov'era com'era, tesi di Berenson, sostenendo all'interno del forte dibattito creatosi un'idea di più ampie vedute, di più ampio respiro, che riteneva la ricostruzione un'occasione imperdibile per rinnovarsi e ricucire le ferite della guerra. Il primo importante lavoro tuttavia risale al 1946 e si tratta della realizzazione del villaggio valdese di Agape. Questa prima esperienza segna moltissimo Ricci, il quale sviluppa un pensiero architettonico scardinato dalla tradizione, che vede l'uomo al centro del progetto e gli spazi come stimolo per valorizzare la comunità e la società, sostenendo che, e cito testualmente, la prima vera operazione architettonica non è prendere un pezzo di carta e disegnare forme e schemi distributivi, ma è invece immaginare nello spazio il movimento di coloro che lo abiteranno. In questo senso, Ricci si contrappone fortemente all'opera di Le Corbusier, definendo l'unità d'abitazione una sorta di albergo contenitore che non si pone il problema dell'abitare e di chi soprattutto ci andrà ad abitare. Piovanti infatti affronterà anche progettualmente questo tema, cercando di superare la chiusura che aveva evidenziato e accusato nel progetto di Le Corbusier attraverso la macrostruttura La Nave, all'interno del nuovo quartiere di Sorgane. Si tratta infatti di un organismo architettonico complesso, sempre di matrice brutalista, ma tuttavia molto più flessibile. Un altro tema molto ricorrente nei progetti di Leonardo Ricci e forse il più importante è il legame che questi hanno con il paesaggio. Una discriminante fondamentale che non manca mai di favorire ed abbracciare le relazioni, i percorsi, i passaggi attrezzati di collegamento fra le varie zone. Questa propensione al landscape è estremamente evidente nei progetti per l'insediamento di Monte Rinaldi, a Firenze, costruito tra il 1949 e il 68, e per il villaggio dei Marziani, a Fiesole, ma anche per il più tardo villaggio Monte degli Olivi a Riesi, realizzato in Sicilia nei primi anni 60 e tuttavia purtroppo incompiuto. Prese singolarmente tutte le residenze progettate da Ricci, fra cui quella per la sua famiglia, sembrano non avere età e si integrano perfettamente nel contesto. Hanno in comune i caratteristici muri a scarpata e le pietre del luogo, ma sopra ogni cosa gli spazi. Spazi che fluiscono liberi da barriere e interruzioni. Ricci è stato molto attivo anche nella ricerca pittorica, esponendo in più occasioni le sue geometrie stilizzate che con gli anni evolveranno in un registro figurativo fatto di forme arcaiche, drammatiche e legate all'informale. Frequenterà assiduamente anche Parigi e i circoli degli artisti, con i quali collaborerà e diventerà ben presto anche docente di composizione architettonica presso l'Università di Firenze, attività che contribuirà al conferimento della medaglia d'oro alla triennale di Milano del 1957 e che lo porterà dagli anni 60 agli anni 80 anche oltreoceano, presso il MIT e altri importanti atenei americani. Durante le esperienze americane avrà modo di sperimentare le model cities, progettando uno dei primi esempi di macro struttura per un popoloso neighborhood a Miami, ma soprattutto conoscerà più da vicino l'opera di Wright, che peraltro incontrerà di persona nel 1951 presso Palazzo Strozzi, in occasione della sua prima mostra italiana. Ricci raccoglierà gli esiti morali di questa esperienza nel libro Anonymous, un testo in cui apertamente riflette sulla vita e sull'architettura e che pubblicherà a New York nel 1962. Alla fine degli anni 50 progetterà alcune residenze organico-espressioniste per committenti indecisamente di rilievo. La casa per Elisabeth Mann Borgese, a Forte dei Marmi, risalente al 59, e la famosissima villa per Pierre Balmain, all'isola d'Elba del 58. Da qui le commesse aumentano e diventeranno sempre più impegnative. L'allestimento per la mostra dell'espressionismo a Palazzo Strozzi, del 67, poi il padiglione italiano all'Expo di Montreal, in collaborazione con Scarpa e Munari, e le ultime tormentate opere della maturità, fra cui la piramide del cimitero di Iesi del 1984 e il Palazzo di Giustizia di Savona, completato nell'87, a differenza del postumo e estremamente criticato Palazzo di Giustizia di Firenze. L'unico esempio di architettura industriale nell'opera di Ricci resta l'edificio multifunzionale della manifattura Goti a Campi Bisenzio del 59. Leonardo Ricci scompare per un male incurabile nel 1994, ha 76 anni nella sua casa di Venezia. È il padre della scenografa Elena Ricci Paccetto e nonno dell'attrice Elena Sofia Ricci.